Nuovamente i medici sono finiti al centro di una bufera giudiziaria su una vicenda che di fatto non coinvolge direttamente i medici perché si parla del problema dei pazienti che sono ormai defunti e che restano negli archivi e negli elenchi del convenzionamento ASL. Come se ne esce da questa situazione? Ha detto benissimo. Mi permetto soltanto una verifica. Una bufera giudiziaria noi speriamo che non ci sia. In questo momento siamo di fronte ad un passaggio preliminare dove la Guardia di Finanza giustamente ha ottemperato ai propri obblighi e ha fatto un'indagine perché la situazione è reale. Vi sono dei pazienti, ma pochi, attenzione, parliamo di 80 pazienti nell'intera provincia. Vi sono dei pazienti, ahimè, deceduti che risultano ancora in carico al medico di medicina generale. Ora, questo con una retroattività addirittura di 20 anni. È ovvio che in questi 20 anni queste somme indebitamente attribuite si sono accumulate. Però qual è il fulcro della situazione? Che la responsabilità medica in questo frangente non esiste. Il medico non può cancellare dal proprio archivio dei pazienti. Primo, perché molte volte non sa se il paziente è deceduto. Se il paziente decede in una città diversa dalla propria, io non lo so. Se il mio paziente decede in ospedale, io non lo so. È compito dell'anagrafe della ASL cancellare d'ufficio, quindi è un obbligo d'ufficio cancellare il paziente. Anche se il medico di medicina generale cancellasse di sua iniziativa il paziente è deceduto, non avrebbe effetto economico. Perché la cancellazione deve essere effettuata dall'organismo proposto, ovvero lo ASL. Perché si crea questo disguido? Si crea questo disguido perché l'anagrafe comunale e l'anagrafe dell'ASL non concordano, non comunicano, non si parlano, perlomeno in alcune occasioni. Ma com'è possibile, in un momento in cui la tecnologia, ci metterebbe davvero due minuti a sistemare queste cose, trovarsi di fronte a questo? Ce lo chiediamo anche noi. Mi è stato detto, vi riferisco a quello che mi è stato detto dagli uffici dell'ASL, che oggi con il nuovo sistema informatico adottato dalla regione, il famoso sistema ED-8, questo problema non si dovrebbe porre, ma ad iniziare dal 1 gennaio 2014. È il pregresso che stiamo affrontando. Ma permettetemi di ribadire, davvero, perché è importante, perché siamo stanchi, siamo stanchi di essere additati come i ladri, gli approfittatori, come quelli che percepiscono denari da chissà quali fondi. Non è così, signori miei, credetemi, non è davvero così. Noi siamo vittime di questo sistema. Noi siamo la parte lesa, perché noi, quando non ci aggiornano l'anagrafe, non possiamo nemmeno più acquisire pazienti. Oggi ci chiedono la restituzione delle somme con gli interessi. Cioè loro ce le hanno dati in maniera, come dire, errata. E noi dobbiamo restituirla con gli interessi, cioè pagare per un errore che non è il nostro. Non è giusto. Siamo un po' stanchi. Ce lo dovete consentire. Siamo un po' stanchi.